Ciao, credo che in diversi di voi si siano accorti che è uscito un nuovo singolo dedicato a noi, che è La Metà della Mela, e la cosa bella a questo giro è che questo singolo l'avete scelto voi. Nel senso che io i miei singoli non li scelgo mai, li lascio scendere alla casa discografica, che però si è accorta per l'appunto che questo pezzo era quello che volevate sentire sempre, a ogni data del tour, era quello che cantavate di più fra i pezzi dell'album nuovo, e quindi un po' come è successo tantissimo tempo fa, Orlando contro il cielo, è una canzone eletta singolo a furore di popolo, a furore vostro, quindi grazie, godetevela, ciao.